Un adolescente vede in media più di 500.000 immagini al giorno. Dentro ogni immagine c'è un mondo. Siamo sicuri di saperlo vedere? L'educazione all'immagine è una disciplina che si rivolge a docenti e studenti di scuole di ogni ordine e grado. Lanterne Magiche ha finora coinvolto 50.000 studenti, più di 300 insegnanti e 115 scuole in tutta la Toscana.